Sì, devo andare in live su Horizon, ciao Massimo, intanto vi metto anche Manchoflexboy Sul lato, un cazzo, c'è metà schermo, un pezzettino, è coperto dalla cosa che mi dice in onda È stato così la live per forza Ah allora ok C'è praticamente per i bordi giusto? Sì, sì Ma l'ho messo Manchoflexboy su Youtube Come se mi arrivano Ma non mi si vede che sto in live, uuu Perché se vado dal mio cuso non mi si vede che sto in live Ragazzi aspettate Aspettate un secondo al gameplay Devo aggiornarmi Devo controllare No, sto in live Grande Vai Allora Per quelli che stanno guardando la live sto giocando l'ultima missione Cioè la missione finale di Horizon Zero Dawn Wow madonna Se vi volete che vi spiego un po' di cose Arco normale, arco di precisione, lancia ghiaccio e arco che non uso però è l'arco da guerra per stordire i cristiani Frecce di normali, uso questo perché sono un boss Mi da sul cazzo che non posso vedere lo schermo intero però figa raga Fa niente È iniziato Adesso sta trasmettendo No È la mauro in testa live, mi vedevi che sto giocando No, non lo so, non lo conosce nessuno il nome del canale è quello là Quando lo dirò allora potranno sgamarmi però per adesso non lo conosce nessuno Mi ero dimenticato che stavo giocando la missione finale di Horizon Dove spiego cosa sta succedendo All'idea dei ghezzi Qui, adesso sta risvegliando le macchine da guerra che ci faranno il pulo se non ne lo uccidiamo Ma noi le uccideremo, vero? Beh io ho finito Horizon otto volte, forse qualcosa la so fare 75 mercenzi Devo fare Intanto c'è con noi nel party Vincenzo che sta giocando a Far Cry Deve essere riuscito a superare le difese Saluto Antonio Devo arrivare lassù Ah sì ragazzi, l'unica cosa irrealistica di Horizon è che se usi le scivolate sali verso l'alto Se 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 sei un file la scivolata sulle scale comunque comincia comunque a salire Devo continuare No ho sbagliato, raga Che figura di merda Ariga, ariga Ariga Eh mi sono buttato per sbaglio Ho premuto quadrato Che so coglione Ciao io voglio l'azione Volazione Voglio l'azione No ho tutto da capo La murte da me Boh Ah boh raga vi faccio vedere la lancia Ma perché è tutto da capo No ho tutta la cutscene Ah boh la cutscene la taglio dai Nel senso che si può schippare tanto Se Abe ha avviato il segnale Deve essere riuscito a superare le difese Finora L'avanguardia di O se cado da capo Grido come un Non lo so Un 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 Vincenzo Devo continuare Non posso fermarmi Sapevo che non era Facile Quindi non si torna indietro Horizon è sempre bello va Anche l'anno una volta No no sono quello che mi serve Aloy Sono Vivi E Aloy Beh lo vedete Pensavamo che fosse caduta al crinale No è caduto lui su di me Non ci rimane molto tempo Devo affrontare Abe Non da sola Tocca a me Non posso chiedervi di seguirmi Andavamo comunque verso la cima Giusto? Bene Tordi dei palchi Andiamo Dovrei rifornirti Vado quanto mi sborro addosso ogni volta Quando sta sta scena Cosa? Ah che bella la battaglia finale Madò quanto mi mancava Mo farò schifo Perché non gioco a Horizon da mesi L'arrivo dell'entità è stato Anticipato L'entità non interromperà la trasmissione Al contrario I calcoli sono precisi La presenza dell'entità era prevista Perché non c'era prima? Perché non c'era? Perché non c'era? Li ho sempre odiati Di sterminatori Che cazzo Eh Cattivissimo Ah raga Io gioco in ultra difficile Eh sì vabbè Eh sì 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 C'è Sì sì E' un po' di rip! E' un po' di rip! E' un po' di rip! Ah, i don't know! Eeeh, un po' di rip! Ah, reg co, nella missione finale c'è il tempo! Che figli da puttana Ce l'abbiamo fatta Quella era l'ultima Se vuoi A casa No no mi rompono Che cazzo è la me E' troppo fatta che si può fuori che esce a culo A flutuic A flutuic A flutuic A flutuic Ma che cosa? A flutuic A flutuic A flutuic A flutuic E' non mi rogno ma Gesù perché sono tutte così incazzate Corrutture di merda Voilà Hello, hello, nananananananana, hello, hello Easy game Minaccia di sistema imminente Sono più di una minaccia Cattivissima Ok Come finì l'horizon in 14 minuti E' finito già No, la missione finale era, si, si Vabbè, la missione finale, dai, c'hai 12 minuti di tempo, l'ho finita in 3 minuti Ormai è sempre uguale Ed è stato anche difficile, perchè stava il corruttore che mi rompeva il cazzo Se no ci avevo rimesso di meno Cioè, ci sono più pezzi di stallive di cutscene Che di... Elisabeth Sobek Alpha Prime Override principale attivato Elimino il protocollo d'estinzione Oh, c'è Hello, hello One more, one of the vets, too Magic blue fighter Andiamo su Fortnite Andiamo su Fortnite Che cosa? Andiamo su Fortnite, sì o no? Sì Mo' un secondo, sta finendo la cutscene Gliela faccio godere A quei zero spettatori che mi guardano Cazzo ridu' Ma poi è bellissima sta scena, è fighissima, qua sta musica Ho fatto un secondo, ma faccio sto messo un secondo Io mo' finisco qua e me ne vado su Fortnite Vai Sì 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 Vabbè dimmi tu quando a cominciare ad andare Che li faccio vedere in quanto ammazzo un divoratuono Cosa vuoi? Cioè, ci vuole un bel po' Che cosa? Questa è questa messa, ci vuole un bel po' Ma devi finirla prima? Sì Allora ok No che bella sta scena Ok Gaia, scusami tanto Cosa dici? Cioè, dovevo conquistare soltanto una mambozza La vita però può arrivarci giù un po' Io per sta scena Cioè, alla fine ho capito che non esisteva Però ho cercato per tutta la mappa per cercare di trovare sto posto Invece non esisteva Praticamente è una cazzina Tipo che viene dopo E tu vai a cercare l'accusa dove praticamente è morta tua madre Ah ok, allora arrivo Finisco Una scena tagliata, una scena dove non puoi giocare Ah, cazzina stiamo Sì Stavo dicendo Tu vai a trovare tipo dove è morta tua madre Non lo so E io ho cercato sto posto per Che spettacolo che ero Non mi so Disse Elisa Essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore Devi usare la testa per valere qualcosa E servire la vita Non la morte Racconti sempre storie di tua madre Ma tu non hai figli Non ne ho avuto il tempo Forse è stato meglio così Se avessi avuto un figlio Elisabeth Come avresti voluto che fosse Immagino Che avrei voluto che lei Fosse Curiosa E ostinata Inarrestabile anche Che? Ma con abbastanza compassione Mia sorella non sa doveva il capo Eh? Sono ieri Come cazzo devo fare? Ah bu? Oh veramente Dobbiamo andare all'Euronics Per comprarci All'Euronics dobbiamo andare comunque Sì sì infatti Forza là Come vediamo se è il cavo là Scusi c'è un cavo Scusi non è che ha un cavo E lui fa Per fare cosa? Per ficcarmelo nel culo Grazie Comunque Per oggi è tutto No Il portati la macchina fotografica E di lì C'è qualcosa che entra qua dentro A parte il mio pisellino Grazie A domani Che spettacolo che Horizon Sto piangendo praticamente Ecco ho finito il gioco Questa qui è la scena finale Dove fa vedere un calderone Però a noi non ci frega una mazza Che cazzo di rumore era? C'ho i ladri in casa E' la scena di ciccio Non mi alza e comincio a correre Che cazzo di rumore è? Oggi proveremo ad arrivare in Lega Sfidante 2 Utilizzando il deck Che problemi hai? Mamma Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che cazzo Che problemi hai V Che problemi hai? Ma vomita No Che mi fa schifo No si vede Ah ragazzi Sto negro E' un figlio di puttana Abbiamo ancora molte cose No V Non mi è arrivato niente Mauro è una strada cinesca Non ci credo A Mauro li l'hai mandato Non a me Eppure a te Non mi ha la vita E invece ce lo hai Aspì 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 un secondo Non si vede Non si vede però Porca puttana Non si vede però Che schifo Sei una merda E se si vede Ti sbocco sul cu Ah intanto no Non posso vederlo subito Non lo seguivo Quando posso me lo guardo Io sto arrivando su fuori Il tempo che chiude sta cosa Salvo Ma in realtà sta già salvando adesso Di cosa Ah di salvare il mondo Ok ok Ragazzi Adesso noi andremo Su fortnite A fare delle belle due Con un grandissimo player Cinquecentesimo su steep E trentottesimo Su Rocket League Chiamato 64esimo su Rocket League 64esimo su Rocket League I ragazzi Ragazzi Attendo Igrokit Ma i 64esimo in Italia O al mondo In Italia Allora fai post Chi O nel mondo No mi sa che ero nel mondo Non mi ricordo So So Arma plus Ma cosa voglio sborrare su un cucciolo di fuoco leopardo Ma C'ho proprio la voglia Siccome si riparte da qua Vado a salvare al falò Saliamo a livello 24 ragazzi Ma non è vero Facco Adesso Adesso Tern ti vengono le tv Nell'FBI a casa FBI stai fermo Ti esce il messaggio sulla playstation Ti esce il messaggio sulla playstation FBI Fermo dove sei Ti esce il messaggio pasture Vianche Mi